Dal 1983 il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Miele è un'associazione indipendente basata sul volontariato. Dopo diversi cambi di residenza, oggi la sede è situata nel quartiere Ostienzi, in via Efeso 2A. Da statuto il Circolo si occupa delle rivendicazioni e della tutela dei diritti delle persone LGBT e della persona in genere, promuovendo attività culturali e di socializzazione. Un'attenzione particolare destinata alla lotta da un lato contro il pergiudizio omofobo e dall'altro nel campo dei diritti civili e per una cultura delle differenze, anche con pressione su mass media, partiti ed istituzioni, al fine di modificare l'atteggiamento discriminatorio sia per orientamento sessuale sia per identità di genere. Sin dalla nascita inoltre l'associazione si è occupata di lotta all'AIDS. L'impegno prosegue anche oggi attraverso servizi di assistenza e campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione, come il progetto Coro sulle infezioni sessualmente trasmesse. Da due anni a questa volta abbiamo creato insieme all'Istituto Superiore di Sanità, al San Gallicano e allo Spallanzani un progetto di tutela della salute per le persone omosessuali che si chiama il progetto Coro, che è un progetto che cerca di invitare proprio le persone a venire nei due centri ospedalieri che sono San Giovanni e San Gallicano, non solo per fare il test HIV, ma anche per fare tutti questi test diagnostici sulle altre infezioni sessualmente trasmesse, sifilide, conorrea, epatitie, eccetera. E la cosa più invitante, tra virgolette, per le persone è che tutti questi test sono gratuiti. Dal prossimo anno il servizio di unità di strada investirà una più ampia fetta di territorio regionale. Un'equip di medici e psicologi opererà nei tradizionali luoghi di ritrovo e nelle scuole utilizzando innovative campagne di sensibilizzazione. La necessità di un impegno maggiore nasce anche dagli ultimi dati sulla diffusione del virus HIV e i nuovi casi di ADS. Secondo l'ultimo rapporto della Regione Lazio, oltre il 90% delle nuove diagnosi di infezioni nel 2007 riporta come fattore di rischio i rapporti sessuali, mentre circa il 50% delle persone scopre di essere siero positivo solo al momento della diagnosi della malattia conclamata, non avendo così beneficiato delle terapie disponibili, oltre al fatto di non aver usato precauzioni per prevenire la trasmissione del virus. Quindi questo vuol dire che c'è una parte importante della popolazione che non si sottopone al test HIV, proprio perché ha una percezione del rischio non solo bassa, ma che sente che questo problema non lo riguarda. Dal 1989 il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli si è dotato di un servizio di assistenza domiciliare per le persone HIV positive e malate di ADS. Nato dalla necessità di accompagnare alla morte in maniera dignitosa i militanti dell'associazione, il servizio si è ben presto esteso al resto della città, divenendo un punto di riferimento in materia. Con l'introduzione intorno alla metà degli anni 90 di nuovi farmaci che hanno di molto allungato l'aspettativa di vita di siero positivi, l'attenzione di operatori, medici, psicologi ed assistenti sociali della cooperativa Gaia, si è inevitabilmente spostata verso la qualità della vita, con un intervento a 360 gradi sulle diverse forme di disagio connesse alla malattia. Il servizio continua, ma fondamentalmente e fortunatamente non si occupa più di accompagnare la persona alla morte, perché la persona adesso si va in ospedale per il The Hospital, per le cure, però comunque può, nella maggioranza dei casi, ricominciare anche a lavorare, per esempio. Quindi si cerca di creare una rete in supporto per quello che è la vita della persona a 360 gradi, sia nella vita sociale, quindi nella vita lavorativa. Quando dicevo la persona comunque sia per il livello di salute, sia per altre capacità, comunque può intraprendere un certo tipo di percorso. In altri casi purtroppo invece alla seropositività, alla malattia, si affiancano ulteriori disagi, magari la povertà, magari altre diagnosi che possono essere comunque quella psichiatrica, eccetera. Allora l'intervento è diverso, è più comunque riuscire a creare una rete di servizi per dare comunque l'opportunità di una qualità della vita alta di queste persone. Nell'ambito dei progetti sull'AIDS, un posto di riguardo va scritto a gruppi di autoaiuto per persone HIV positive, uno spazio di confronto e condivisione nato circa dieci anni fa che agisce su due piani, quello relazionale e affettivo, familiare e di coppia e quello dell'accettazione e gestione delle terapie mediche e farmacologiche. Gli obiettivi quali sono? Quelli di mettere a confronto storie di vita diverse, perché si pensa che avere uno stesso problema vuol dire essere uguali, come se scattasse una sorta di fratellanza a qualche livello. Scoprire che invece ognuno, ogni singola persona darà una sua specifica risposta all'HIV è una cosa importante per riappropriarsi proprio della propria individualità che sembra quasi annullata. Nel primo momento, durante la prima fase, l'impatto della diagnosi, la persona sente che quello che viene negato è il principio della sua identità. Il gruppo ha l'obiettivo di far riappropriare le singole persone di un tempo che sentono negato, quindi di un progetto di vita che va ristrutturato. Il gruppo ha delle finalità terapeutiche, ha delle finalità trattamentali, non a caso è un gruppo di autoaiuto anomalo questo, perché è gestito da una psicologa, quindi l'obiettivo è quello di aiutare le persone ad elaborare un fatto critico, quindi a risolvere quella crisi, quella frattura che l'impatto con la diagnosi inevitabilmente crea su un equilibrio di vita preesistente. In questo contesto, perché il meccanismo della condivisione è il migliore? Perché viene scelta appunto la decisione del gruppo? Perché il gruppo fa sentire non soli, spesso la motivazione che spinge le persone, e questo crea una grande differenza con il gruppo di psicoterapia, perché comunque c'è un tema comune, un tema che accomuna tutti, che è appunto la patologia, quindi la motivazione principale è quella di conoscere altri come me, persone che condividono lo stesso problema, con i quali si bypassa sin dall'inizio il grande problema di dover dire di sé, di dover spiegare quello che si prova, si dà in qualche maniera per scontato che gli altri possano capire perché ci sono dentro o perché già ci sono passati per certe cose, per esempio che cosa vuol dire avere una diagnosi di seropositività, tutti bene o male hanno sperimentato chi in una maniera più drammatica, chi con delle risorse maggiori, però la crisi iniziale è una cosa assolutamente certa che tutti possono capire. La gran parte di seropositivi gay è ancora oggi in Italia oggetto di una doppia discriminazione. Nonostante i progressi degli ultimi anni nel nostro paese, non ci si è riusciti completamente a raffrancare dall'idea di categoria a rischio, per sostituirla con quella dei comportamenti. Sono ancora tanti quelli che preferiscono trincerarsi dietro l'anonimato, pur non avendo nulla da nascondere, perché temono il peso del giudizio, dell'emarginazione e magari sul posto di lavoro. È il caso di Luca, un nome di fantasia, che ci racconta la sua storia. Qual è stata la prima cosa che hai pensato quando hai saputo di essere seropositivo? Ho pensato subito al mio ragazzo, perché stavo con una persona da tanto tempo e quindi ho pensato se pure lui poteva essere seropositivo. Abbiamo fatto un percorso presso dei centri, anche a livello di terapia, sia individuale che di coppia, perché lui non voleva all'inizio farsi il test. Poi dopo l'ha fatto, dopo circa un anno, è risultato negativo. Quindi a volte la cosa è anche un po' strana, perché io e lui non usavamo reprezioni, però non è successo niente. Com'è vissuto questa condizione? All'inizio sicuramente in modo difficile, perché erano anni duri, parliamo di 15 anni fa. Di conseguenza l'informazione era molto scarsa, c'era un'informazione sbagliata, c'era la paura e quindi ho avuto difficoltà. Però mi sono appoggiato a delle strutture, quindi il circolo, che lo ringrazio tantissimo perché comunque mi ha dato una mano.